Buongiorno, sono Nicola Vitiello e sono un ricercatore dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna. Con molto piacere ho accettato l'invito da parte degli organizzatori dell'Internet Festival di partecipare il giorno 10 ottobre con una dimostrazione dal vivo di un robot, di un nuovo dispositivo indossabile per l'assistenza al cammino sia degli amputati che degli anziani. Un sistema che è stato sviluppato sia nel progetto Cyberlex, un progetto europeo, che nel progetto Yuvo. Quello che vedete in questo momento nel video di sfondo è un prototipo che è stato presentato a marzo di quest'anno. Ho il piacere di annunciare che nel corso dell'Internet Festival verrà presentata una versione innovativa che supera alcuni dei limiti dell'attuale prototipo e che coloro che parteciperanno all'Internet Festival avranno la possibilità di vedere da vicino e anche di provare. Un caro saluto, vi aspetto il 10 ottobre all'Internet Festival.